salve a tutti ragazzi e ragazzi come state spero bene vi auguro una buona visione vi ringrazio come sempre per il supporto che mi date con la visione del mio video che mi sostenete e quindi vi ringrazio infinitamente ho fatto un piccolo ordine da shane e quindi volevo condividerlo con voi partiamo subito dall'oggettistica per la casa e ho avuto recentemente regalata da mio cognato la frigidice ad aria e quindi guardando un po la sul reparto oggettistica per la casa ho visto che su shane c'erano questi contenitori da utilizzare in sostituzione della carta forno sono di una gomma molto spessa in silicone e quindi ho voluto prendere questo modello e questo qui infatti voglio provare a fare un dolcino vediamo un attimo se riesco a fare una mini torta poi sempre per la frigidice ad aria ho preso questa carta forno sempre con i bordi alti tipo tortiera e sono 100 fogli di carta forno se non erro non ho adesso una lista con tutti i vari prezzi ma non li ho pagati più di due euro poi sempre per la casa sicuramente chi sbircia su shane gli sarà passato sott'occhio questo porta spugnetta e porta pezzetta che si attacca alla rubinetteria del lavello della cucina qui ci sono le varie misure per la lunghezza e questo una volta inserito e sigillato alla parte centrale del rubinetto va di lato nel lavandino quindi è comodo una volta che si è pulito tutto il lavandino il lavello anzi della cucina si ripongono qui gli stracci poi per chi mi conosce e sa che amo il natale io c'è oltre a fare l'albero adobbare casa mi auto come si dice adorno anch'io per natale si fa quel che si può e quindi ogni anno cerco di cambiare le cover del cellulare quindi per chi è interessato questi sono cover per un iphone 14 e ho preso questa che richiamo a babbo natale ragazze costo non è anche meno di due euro le ho pagate queste cose quindi si può fare e sono fatte bene non è la prima volta che acquisto le cover da shane e quindi ogni tanto non si può fare quindi ho preso questa poi questa qui ne vogliamo parlare con la renna che spunta da dietro troppo bella e poi i miei amati pan di zenzero non possono mancare ogni natale poi ho voluto comprare una cinta perché mi serviva per mi sono immaginata un outfit semi autunnale quindi io non sono molto amante delle cinte non le uso neanche sui jeans però mi serviva questo modello di cinta molto sottile devo dire che è fatta bene pagata un euro e 75 odora anche un po di pelle magari non sarà pelle pelle però e ha fatto alla sua figura e perché la voglio inserire su questa gonna si appoggiano a volte sulla buona sui camicioni e vedete quanto è bella questa gonna è una gonna quest'anno va di moda tantissimo il leopardato maculato zebrato tutte le varie striature animali e dalla fotocamera non rende però di base è un verde salvia bellissimo c'è anche il solito colore leopardato bordeaux marroncino andate a dare un'occhiata e è fatto con questo elastico molto alto quindi non segna chi ha un po di pancetta non fa quell'effetto premaman di profilo ecco per intenderci è lunga che arriva a metà polpaccio ed è tutta vedete come cade tutta ondulata quindi è larga e slancia molto me la sono immaginata con sotto un biker un anfibio tipo bella casual e ho preso poi da abbinare sopra o da mettere con pantalone questo maglioncino leggero da mettere ottobre novembre sempre se arriva questo autunno perché da noi in puglia di nuovo 33 gradi ci sono la cosa bella di questo maglioncino è questa che ha sulle maniche del braccio questa manica sbuffo vedete e poi sul polso ci sono tutti questi bottoncini dorati che rendono particolare un attimo il maglione anche di questo maglioncino ci sono vari colori sia la gonna che il maglione non le pagate più di 10 euro poi passiamo alla piccolina di casa che la mamma vede brillantini e rosa ovunque e ho preso questo giacchino leggerissimo da mettere in questo periodo super pagliettoso rifinito benissimo vedete cerniera questo qui in molti lo fanno in modo tale che non dà fastidio ai bambini al collo perché magari si pizzicano quindi è chiuso e quindi la cerniera del cursore non dà fastidio ai bambini ottima genialata questa qua devo dire bravo shane vedete le pagliette è stupendo rifinito bene devo dire che le robe dei bambini ma anche quelle da adulti sono proprio rifinite benissimo ragazze per quello che costano cioè le cose che vedrete adesso di mia figlia la cosa più costosa l'ho pagata 12 euro cioè tipo questo giubbino sulle 11 euro forse l'ho pagato poi non potevo non prendere queste scarpe ragazze 12 euro le ho pagate bellissime delle ballerine glitterate con un pochettino di tacchetto vi consiglio di prendere un numero in meno nel senso che tipo mia figlia ha quasi sei anni e fa 30 però la ballerina deve essere calzata precisa né troppo grande perché sennò si rischia di perderla dal tallone e poi la cosa buona è che c'è questo velcro quindi ho preso un 29 e vi devo dire che non la perde da dietro perché queste vanno indossate con incollante fra un po e avanti gli rimane anche un po di spazietto quindi credo che potrà spurtare anche quest'inverno poi sta andando tantissimo di moda l'orsetto diciamo simil logo di moschino e ho preso questa felpa bellissima che la volevo anch'io per me infatti c'è però non peccato rosa no gli altri colori e quindi l'ho voluta prendere per mia figlia è bellissima con la molla alla parte finale vedete non è molto felpa da grossa grossa quindi si può mettere benissimo anche senza indossarolo petto sotto ai bambini poi mi sono innamorata di questo completino cioè leggero di cotone da mettere adesso e a maniche lunghe e c'è questa maglietta con questo fiocco tutto pelucioso tipo piume ma la cosa più bella è questa donna ragazze e stupenda indossata sopra e la cosa proprio cioè che devo proprio mettere cinque stelle perché come si dice come spendi mangi e lasciatevelo dire sono pure foderati ragazzi e cioè io sono dell'avviso che se si riesce a spendere poco per i bambini anche se si deve dare andare che ne so una comunione una cerimonia cioè se tu avessi un bambino con un completo così pagato 10 euro fai bella figura è inutile andare a spendere questi soldi importanti per un vestitino un completo che poi da un anno all'altro crescono e te lo ritrovi lì nell'armadio cioè io magari parlo da mamma come primo figlio magari fai di tutto e di più no quando inizi ad avere altri figli ti ridimensioni cioè dispiace poi spendere tanti soldi se poi da un anno all'altro crescono non fai in tempo io a volte non sono riuscita mettere la grande che ha 14 anni capi che avevano ancora il cartellino perché magari te lo regala la zia l'amica poi crescono e quindi cioè mi sono ridimensionata avendo avuto poi la piccolina e quindi 10 euro ragazze cioè e belli immaginatevelo con queste scarpette sopra un bel cerchietto in testa fate una bella figura cioè proprio bello adesso vi faccio vedere questo che secondo me chi lo vedrà vonda a comprare ragazzi anche questo 11 euro l'ho pagato questo vestito ragazze ne vogliamo parlare cioè vedete fa queste finte spalline mi direte che forse un po pacciano ragazze però è bellissimo è un rosa barbie adesso con la luce che ho in camera da letto non si capisce tanto bene tutto pagliettato e bello pesante anche dentro a questa stoffa un po felpatina quindi lo potreste mettere anche pure in inverno con la cerniera e un attimo che lo apro così vi faccio vedere quanto è lungo è un tubino super pagliettoso e mia figlia impazzita cioè troppo bello ragazze me ne sono innamorata sarà un po pacchiano però è bellissimo questo anche se uno deve andare a qualche cerimonia importante diciamo nel periodo un po più fresco non d'estate cioè ragazze veramente fate un figurone niente qui termine mio video con questo mini all se così si chiama di shane e volevo condividere con voi questi mi acquisti magari possono essere utili a tante di voi se hanno non sanno come delle idee per vestirsi delle cose per la casa delle idee per i bambini niente vi auguro un buon pranzo perché sono le 12 e 22 e vi saluto e grazie grazie tanto per seguirmi sempre un bacione ciao